Hanno tifato inoltre 12.000 per il proprio luogo del cuore la chiesa di Santa Croce della Foce di Gubbio che alla fine tirate le somme del settimo censimento nazionale del Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa San Paolo dal titolo proprio i luoghi del cuore ottiene un prestigioso 25esimo posto in una classifica guidata al primo con 110.341 voti dal convento dei frati Cappuccini a Monte Rosso al Mare in provincia della Spezia seguito dalla Certosa di Calci nel Pisano, uno dei monasteri certosini più importanti d'Italia e dal castello di Calatuba ad Alcamo nel Trapanese un grande complesso architettonico su uno sperone roccioso che ha origini antichissime al 25esimo posto come detto con 12.329 segnalazioni la chiesa di Santa Croce della Foce una delle più antiche chiese di Gubbio ressa quasi totalmente inagibile dal sisma del 97 documentata dal 1143 è stata rimaneggiata tra XVI e XVIII secolo ed è tra i luoghi fondamentali della devozione cittadina sin dall'epoca medievale e dello svolgimento della processione del venerdì santo chiesa oggi inagibile per questo il consiglio della confraternita di Santa Croce della Foce è impegnato su vari fronti a reperire risorse per la messa in sicurezza per il restauro della stessa soddisfazione viene espressa dalla sezione di Gubbio del Fondo Ambiente Italiano tra l'altro impegnata proprio in questi giorni nell'organizzazione delle giornate di primavera delle 21 e 22 marzo per dare la misura della portata del censimento 1.658.701 italiani hanno segnalato oltre 20.000 luoghi in quasi 5.000 comuni i votanti, donne e più che uomini per un'età media di 45 anni hanno segnalato soprattutto la categoria chiesa Santuari Cappelle l'Umbria con 63.317 preferenze la decima regione per numero di segnalazioni un successo senza precedenti lo definisce il FAI che mette in risalto la crescita della partecipazione organizzata da parte di associazioni, gruppi e comitati spontanei che spesso nascono proprio in funzione del censimento dai 51 gruppi di due anni fa si è infatti passati a 276 e se nel 2003 i luoghi che superavano i mille voti erano soltanto due quest'anno sono ben 258 ad attendere i primi tre luoghi classificati c'è un intervento diretto da parte del FAI e di Intesa San Paolo quelli che hanno ricevuto più di mille voti possono presentare una richiesta di intervento partecipando alle linee guida per la definizione degli interventi stessi che fornse che trovi